Nella conferenza stampa che si è tenuta ieri a Latiano, presso il Palazzo di Città, è stato presentato il programma della stagione di prosa 2008 Latiano Teatro. L'assessorato alla cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, con il patrocino del Ministero dei Beni e delle attività culturali della Regione Puglia, anche quest'anno rinnova l'appuntamento con il Grande Teatro d'Autore. Una iniziativa a cui noi teniamo moltissimo perché siamo convinti che può contribuire a qualificare questa nostra cittadina. Significa infatti che anche Latiano, che è una piccola città della provincia di Brindisi, potrà ospitare delle manifestazioni teatrali che normalmente vengono registrate soltanto nelle grandi città. Ed infatti basta scorrere il programma di questa stagione teatrale per rendersene conto. Si comincia il 16 gennaio con Giorgio Tirabassi. La stagione 2008 infatti si presenta come una stagione particolarmente interessante. Crediamo non solo di nostri cittadini ma anche e soprattutto di fuori paese perché poi l'aspetto importante è proprio quello di riuscire a creare incoming, di riuscire anche, permettetemi con un pizzico di orgoglio, quello di riuscire a dimostrare come Latiano possa sicuramente essere all'altezza. Grandi nomi per cinque grandi spettacoli che andranno in scena da gennaio ad aprile 2008 nel Teatro Olmi, passando dall'aspietata comicità sociale di Giobbe Covatta alla musicalità delle lingue di Shakespeare con Lello Arena. Iniziamo con Tirabassi, giorno 16 gennaio, sempre al Teatro Olmi, poi continueremo con Ascanio Celestini che ritorna nuovamente a Latiano dopo due stagioni in cui è mancato, con la pecora nera e poi abbiamo il 23 febbraio ruzzante, poi avremo Giobbe Covatta con Seven e poi infine chiuderemo il cartellone con Lello Arena che verrà con Shakespeare, re di Napoli.